Il giorno e la storia. Oggi è il 30 marzo. 1853. Nasce Vincent Van Gogh. 1979. Iran. Referendum. Monarchia. Repubblica islamica. 1985. Arrestato Pippo Calò, cassiere di Cosa Nostra. Commenta il fatto del giorno Daniele Bellasio, direttore della Prealpina. Il 30 marzo del 1981, il Presidente degli Stati Uniti ed ex attore Ronald Reagan è vittima di un attentato.